Inizio preparando la ganache. Verso in una casseruola 100 ml di panna fresca a temperatura ambiente. Metto sul fuoco a fiamma medio-bassa e porta a sfiorare il bollore. Rimuovo la casseruola dal fuoco. Verso in un sol colpo 100 g di cioccolato fondente tritato in modo grossolano. Mescolo con la frusta a mano. Ottengo una crema uniforme e senza grumi. Trasferisco la crema in una ciotola. Copro con la pellicola a contatto. Metto la ciotola in frigo per almeno 4 ore. Consiglio di preparare la ganache anche il giorno prima. E ora prepara i muffin. Metti in una ciotola capiente 200 g di farina, 100 g di zucchero, 20 g di cacamari in polvere e a seguire un isco, mezza bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. Mescolo con la frusta a mano fino ad amalgamare gli ingredienti secchi. In un'altra ciotola metto un uovo media a temperatura ambiente, 70 ml di olio di semi e 125 ml di latte a temperatura ambiente. Mescolo brevemente con la frusta a mano. E ora verso gli ingredienti liquidi, quali secchi. Mescolo bene con la frusta a mano fino ad ottenere un impasto abbastanza consistente e ruvido. Consiglio di non lavorare troppo gli ingredienti. riempio ogni stampo per muffin con i pirottini di carta. riempio ogni pirottino con i due terzi dell'impasto. Trasferisco la teglia in forno già caldo e statico e lascio cuocere a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Consiglio sempre di verificare la cottura con uno stecchino di legno. Una volta che i muffin sono cotti, rimuovo la teglia dal forno e lascio raffreddare bene bene. Nel frattempo riprendo la ganache indurita, lavoro con le fruste elettriche e ottengo una crema morbida e soffice. Quindi ora verso in una ciotola bella capiente 250 ml di panna da montare già zuccherata, bella fredda di frigo, monto con le fruste elettriche. Realizzo la decorazione con il beccuccio rigato. Posiziono sopra una zucca di marshmallow. Decoro con la bocchetta stella degli altri muffin. Aggiungo un cucchiaino di marmellata di ciliegie passata al setaccio. In questo modo risulterà molto più fluida e senza grumi. Decoro con una caramella a forma di occhio. Termino decorando i restanti muffin con la ganache al cioccolato. Utilizzerò il beccuccio liscio. Quindi sistemo degli occhietti realizzati con la pasta di zucchero bianca e nera. I miei carissimi amici, i tre dolci di Halloween non possono proprio mancare questi meravigliosi, sfiziosi e super golosi muffin. Sono dei dolcetti facili e veloci da preparare. Faranno impazzire i vostri bambini. Sono davvero simpaticissimi. Potete prepararli assieme a loro. Vanno conservati in frigo per un massimo di 2-3 giorni. Vanno conservati coperti a campana o con la pellicola da cucina. Vanno conservati un anno dolor이ujemy. Vanno弹endo coperti a campana o con la gelencorazione un valore misschien. Ho saluto da cucina